La partita di domenica contro i miei ex compagni è stata sicuramente una partita divertente da giocare è stato bello sfidare comunque i ragazzi con cui mi allenavo fino a poco tempo fa però d'altra parte ora ho la maglia del sassuolo addosso e quindi volevo vincerla a tutti i costi è stata una bella partita, divertente, sono contento che l'abbiamo vinta noi Con Berardi mi sono trovato molto bene, poi lui è un giocatore che secondo me è molto molto forte basta che corro e metto la palla nei piedi quindi è stato anche relativamente semplice trovare un'intesa con lui e mi sono proprio divertito Allora venire a sassuolo mi ha spinto sicuramente il fatto che questa società è risaputo che ha grande abilità nel migliorare i giovani infatti anche la Rosa è molto giovane, alcuni li conoscevo già però mi sono trovato veramente bene fin da subito col gruppo perché sono tanti giovani e andiamo d'accordo su tante cose inoltre il centro sportivo è veramente all'avanguardia e si può lavorare e migliorare veramente bene Qualche compagno che conoscevo già come per esempio Frattesi, ho anche Martin sono dei ragazzi che con Frattesi ho giocato in nazionale quindi è stato bello ritrovarli qua Per questa seconda parte di stagione ho delle ambizioni abbastanza importanti perché secondo me la squadra è forte e non merita la posizione di classifica in cui è adesso e quindi sicuramente è rientrare nella parte sinistra della classifica la prima possibile, dal punto di vista personale sicuramente sono qui per fare minutaggio per mettere in campo quello che ho imparato nei sei mesi all'Atalanta e per questo ringrazio il Sassuolo che mi dà la possibilità come obiettivo personale in generale ho quello di vestire la maglia della nazionale quindi spero che queste partite mi aiutino ad avvicinarmi al mio obiettivo Beh, tra giocare all'Atalanta e giocare al Sassuolo ci sono delle differenze anche perché all'Atalanta facevo un ruolo diverso che era il quinto di centrocampo anche se io nasco come terzino quindi non ho problemi a ricoprire questo ruolo e comunque lo stile di gioco è molto differente perché lì eravamo molto più aggressivi giocavamo sull'uomo invece qui essendo terzino a quattro sono un po' più attento alla fase difensiva e quindi il gioco è un po' caldo Domenica mi aspetto una partita sicuramente più complicata della scorsa anche perché giochiamo comunque fuori casa contro una squadra che sta facendo bene, grande fisicità però sono fiducioso perché possiamo mettere in difficoltà come abbiamo messo in difficoltà le grandi e quindi sono assolutamente convinto che porteremo a casa dei punti Crescere nel settore giovanile dell'Atalanta è stata sicuramente l'esperienza più formativa che potessi avere anche fuori dal campo perché fino a quando sei comunque piccolo sono arrivato a 14 anni ti danno anche dei valori al di fuori del campo e secondo me è stata la cosa principale che mi ha dato l'Atalanta poi comunque il centro sportivo, gli allenatori, c'è grande preparazione, grande professionalità che mi ha aiutato negli anni poi a migliorare tantissimo La più grande difficoltà è stata sicuramente in campo perché io ero già abituato a vivere da solo perché ero già a Bolzano l'anno prima e la difficoltà è stata in campo, all'inizio vedevo la palla che andava fortissimo non riuscivo a tenere i ritmi poi per i primi mesi è stato complicato poi invece mi sono abituato e è andata sempre a crescere Il campionato di Serie B con la Cremonese è stata la prima esperienza tra i grandi quindi all'inizio è stato un po' complicato, non riuscivo a giocare molto e dovevo un po' abituarmi ai ritmi e alla fisicità dei grandi però poi tutto sommato è stato un anno veramente formativo dove sono riuscito alla fine a giocare parecchio e è stata una bella annata importante Lì con la Salernitana è stato un percorso incredibile anche perché fino a gennaio la società era in forse quindi eravamo tutti un po' sballati e poi invece con l'arrivo di Nicola e della nuova società abbiamo fatto un percorso davvero importante, emozionantissimo e sarà difficile che qualcuno lo ripeta però è stata una cosa unica Sì quest'anno l'Atalanta ho trovato meno spazio a livello della Rosa è sicuramente alto ci sono giocatori forti per ogni ruolo e quindi è stato un po' più complicato anche perché non essendoci le coppe non c'era da fare grandissimo turnover però è stato lo stesso formativo nel senso che io mi sento veramente migliorato nonostante abbia giocato poco Ho 23 anni e comunque sono fortunato perché ho già delle esperienze importanti nei campionati maggiori sicuramente devo migliorare nella mia duttilità io sono un giocatore molto duttile quindi voglio essere forte in tutti i ruoli e ci sono alcuni ruoli dove devo migliorare la fase difensiva per esempio e giocare a destra e a sinistra vorrei che fosse la stessa cosa per me e ci sto lavorando Il momento più che mi resta in testa della mia carriera è stato il primo gol in Serie A perché è stato un sogno che ho rincorso per tantissimi anni e quindi quello sicuramente non me lo toglierò dalla testa Il mio primo gol in Serie A è stato contro il Bologna l'anno scorso in casa a Salerno Il calcio mi ha insegnato la cosa principale che ho imparato dal calcio è stata che ci sono magari forse più momenti difficili di quelli facili ma che alla fine comunque i bei momenti sono quelli che poi ti ripagano di tutta la fatica che hai fatto Il mio sogno è quello di vestire la maglia della nazionale perché penso che sia la cosa massima a cui può invire un calciatore e giocare la Champions League